Applicavano tassi usurai superiori al 100% al mese i 15 indagati nei confronti dei quali il GIP di Napoli, su richiesta della Didia Partenopea, ha emesso altrettanti arresti. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Poggio Reale, con il supporto dei militari del nucleo investigativo di Napoli e dei gruppi carabinieri di Napoli e di Castello di Cisterna, finora hanno arrestato 14 dei 15 indagati destinatari di un provvedimento cautelare. I reati contestati a vario titolo sono di usura ed estorsione. Le vittime sono due uomini residenti nel quartiere Poggio Reale di Napoli, i quali avrebbero contratto debiti con tassi usurai spesso superiori al 100% mensile. L'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati e degli arresti domiciliari nei confronti dei restanti 7, attivamente ricercato dai militari il quindicesimo destinatario del provvedimento di arresto.